Un vescovo solo per Torino e Susa e l'arcivescovo Cesare Nosiglia che annuncia un cammino insieme con le proprie tradizioni e storie diverse. Un cammino lungo ma già la messa di Natale il vescovo sarà a Susa. Reazioni, saluti, una strada aperta. Focus sul futuro dei giovani parlano i rettori di università e Politecnico. Mille maratoneti davanti alla sindone dallo scalone che collega la cappella al Duomo. Il nodo embraco, il lavoro difficile nel 2019, che cosa succede alla stampa. Grandi obiettivi, il disastro in Siria, le contorsioni dei grandi, i morti innocenti, questione ergastolo, governo lite continua, cultura, foto e libri dall'autunno caldo del 69, pupi avati al microfono. Le pagine di bioetica ottobre missionario, il sinodo sull'Amazzonia. Oratori, Santa Rita, l'oratorio si mette a correre. L'arte di animare a Valdocco tornano i corsi organizzati dal movimento giovanile salesiano. LVA, bando giovane sull'economia circolare. Che scuola superiore scegliere? Il 26 ottobre con l'azione cattolica. Torna nord, sud, ovest, est. Bacheca, notizie da Michelino, settimo, la Gesi, il seminario maggiore. La voce, il tempo, l'altro giornale.